Questa parte, con la qua l'amore mio, amore 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 mio, amore, guardatela, fammi prendere l'erba, io la lancio, io non parlo così, tanto per farvi vedere come parlo con lei, che tanto io parlo sempre così con lei, così bella lei, Mimì, ma che stai facendo, Mimì, oh Mimì, bellissima, amore, Mimì, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua, brava, 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 aspettate, Non si vede, non si vede, gaspiterina, se dove mette il cellulare, E io adesso vengo da te, 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 Oh la balla la balla la balla la andando la balla Ja la balla Ehi Ehi Eschi Allora Caccomo all traveled Balla! non si può rimanere ti prendo, ti metto ti metto sopra questo qua e ti attacco di cosi cosi invece non ti vuole muovere Non ti puoi muovere tu... Ma dico i tamavocchi cos'ha? Come e ti vuoro! Hai Numo Di Numo Di Numo Di Numero. Prendete yesaps? Come i soldi. Oh pongo pronto figlio WHAT CHI PERISNI. Questi prendi... Oh! Sono 6 milioni, 6 milioni, 7 milioni, 10 anni. Tu metti i 5 milioni della volta, tu devi spendere lì. Non mangiare. Ah, ma i mangiare pagano la signora. Vedi i 5 milioni, sei qua. No? No. No. Non ho un appartamento. Chiudi l'occhio, chiudi l'occhio? Via col dei calacce. I morini, un CLAT. Un appartament. Non lo so, ma 100 Torniamo per pochi potrò secondari. Mi metti dal fastiglio? Fammi vedere questa salvezza. Come cosa? Come cosa? ma non è più facile, perché si trovo come, non sa, va bene, così mi bella no, ok, ma ho pieni, 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 non mi aspetta non mi aspetta, non mi aspetta, non mi aspetta non mi aspetta, non mi aspetta, non mi aspetta non mi aspetta, non mi aspetta